Le migliori 10 azioni di Osimo Fossombrone La tripla che non ti aspetti Mitchell Poletti Laudoni crea spazio e segna in sospensione Pic and roll, gattoni, poletti Chi è quel ragazzino? Il quarantenne Massimo Gattoni Mancinelli crea, Perini realizza Recupero, contropiede, rimbalzo offensivo e canestro Il capitano Davide Perini Ci avviciniamo al podio con la tabellata in sospensione di Mitch Toletti Sul gradino più basso, Luca Doati con una tripla allo scadere dei 24 secondi Medaglia d'argento per il canestro di Perini dopo il cost to cost di Gattoni Ma la migliore azione della settimana è la stoppata di Doati A Giuffrida sul tiro dall'arco A Giuffrida sul CAMP有 A Giuffrida sul mondo